Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo mio nuovo video. Oggi volevo fare una zona relax in questa zona della mia isola. Iniziamo a togliere i fiori, quindi prendo la pala e tolgo alcuni oggetti dal mio inventario. Ecco qua, ho svuotato tutto l'inventario e adesso iniziamo a togliere i fiori. 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 Ok, ho tolto tutti quei fiori, adesso voglio togliere questi, però non voglio togliere questi, quindi toglierò questi qua e questi li faccio di manere. Ho tolto tutti quei fiori, adesso prendo qui, faccio il selcetta d'arco e riempio tutta questa parte. Finito, adesso iniziamo a togliere i fiori. Poi voglio mettere questo, che metterò qui al lato. Ecco, poi staglio muschio luminoso. Eccolo qui, è abbastanza grande. Io pensavo che fosse più piccolo, invece è abbastanza grande. qui, se lo tocchi escono le particelle. E poi vorrei mettere il masso muschio luminoso. E lo voglio mettere qui. Arancina, spostati. Ecco. Ecco qui. E poi una lampada. Io non lo so, vorrei metterci questa qui. Invece di questa qui, vorrei metterci questa qui, che è una lampada a fungo. Ecco qua. E poi questa pianta qua. La mettiamo qui. Questa la metto qui. Allora, poi qui, dove c'era la panchina, ci vorrei mettere una pergola. Vorrei metterci questa qui. Solo che lo ordinate, quindi mi devono arrivare. Se vi è piaciuto il video, lasciate like. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.